io c'ho un amico per esempio che sta a roma che è un matto completo che si chiama vicino mini di nicola nicola conosci un più fuori di testa di quello di se si è molto particolare è molto diciamo trasgressivo anche lei che per il momento mi sembra una cosa buona perché ce ne sono pochi che sono veramente così coraggiosi anche di proporsi anche in modo sgradevole perché lui fa in scena fa schifo è molto animale è una specie di bestia non a me ricorda cinico tv un pochettino la pancia infatti era geniale cinico tv per me e lui è uno che che ha delle 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 dotti per potere diciamo scalfire un attimo il perbenismo imperante